buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è 15 luglio 2023 siamo a metà del mese un mese torrido devo dire molto molto caldo tanto che i giornali che stamattina parleranno molto del caldo dell'afa e tutti gli effetti che poi questa grande e questa alta temperatura provoca nelle persone bambini adulti anziani e via dicendo noi come al solito passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è la festa di san bonaventura eccolo qui nella grafica san bonaventura vescovo e dottore della chiesa un un grande santo le previsioni del tempo le previsioni del tempo non cambiano molto rispetto ai giorni scorsi il tempo rimane stabile e solleggiato lo vediamo qui nella cartina che mostra come il sole appare su tutta la regione ci saranno però piccoli annuvolamenti diurni nell'entroterra le temperature salgono si salgano con una con un caldo percepito sui 35 36 gradi mentre il termometro non dovrebbe andare più oltre dei 30 gradi le minime invece si sono attestate a 21 gradi i venti sulle coste espirano da est sud est così come nell'entroterra e il mare dovrebbe essere calmo ma su questo chiediamo appunto una verifica da parte di cristiano boni dei bagni azzurra buongiorno cristiano buongiorno massimo buongiorno a tutti oggi sono in compagnia si vediamo che sei in compagnia chi sono i tuoi amici ce li presenti certo amici e soci soprattutto vi presento riano e denis che con me portano avanti questa bellissimo stabilimento e anche grazie a loro a tutto quello che avete visto questa settimana è possibile diciamo che siamo benissimi essere in campo certo salutiamo allora anche i tuoi soci i tuoi bagnini diciamo che la vostra è una bella concessione poi il colore azzurro da proprio l'idea del mare del cielo della serenità della tranquillità di una bella vacanza benissimo allora passa fammi parlare un attimo con i tuoi soci riesce a passare il microfono il microfono guarda loro già ti sentono si vede benissimo buongiorno benissimo cosa ne dite di cristiano è stato un buon interlocutore in questa settimana è riuscito a valorizzare la concessione che dite certo cristiano sa quello che deve dire sa cosa deve fare perché è tanto tempo che fa questo lavoro quindi se insieme siamo riusciti a creare questa questa cosa diciamo benissimo allora guardate con voi voglio commentare una notizia che appare oggi sui giornali si tratta di una notizia che viene pubblicata dal corriere adriatico il titolo non so se voi lo vedete lo vedete l'immagine allora ci abbiamo l'immagine nostra weekend allora super caldo e niente mare pienone solo nei weekend e la stagione non decolla bagnini preoccupati diminuita la clientela e dimezzate le presenze giornaliere questo è un articolo che riguarda pesaro non so se riguarda anche la zona sud del fiume metauro che è la zona turistica più appetibile del comune di fano cosa ne pensate sì effettivamente è un paio un paio di stagioni che abbiamo notato questo trend che ma da quanto hanno fatto il quadrilatero un po di polemica purtroppo a noi ci ha danneggiato il fatto della strada lì che porta da Perugia a Civitanova ci ha tolto molte persone che arrivavano dall'Umbria la chiusura della contessa sarebbe la chiusura della contessa sarebbe no quest'anno peggio perché hanno chiuso anche la contessa e quindi proprio ci ha tagliato fuori questa zona perché uno chi arriva da Perugia deve fare mezzo due ore di macchina non è possibile e quello questa secondo me nella zona nostra è una causa poi dopo ci sono altre cause derivate dal tempo che è stato brutto un po' di tutto anche il troppo caldo non fa bene è vero si sta bene diciamo così in acqua nella battigia quindi venite andiamo al mare se è possibile adesso il weekend dovrebbe essere bello dovrebbe essere soleggiato quindi non più come a giugno quando proprio sabato la domenica magari pioveva ragazzi vi ringraziamo per questo collegamento vi auguriamo una buona stagione e poi chissà magari ci risentiremo il prossimo anno saluto voi saluto cristiano e vi faccio tanti tanti auguri grazie a voi Massimo è stato veramente un piacere stare con voi tutta questa settimana e veniteci a trovare così oltre dallo schermo potete viverlo anche in te buon weekend a tutti arrivederci apriamo i giornali quindi questa mattina a partire dal resto del Carlino e vediamo che purtroppo c'è una notizia di cronaca non bella l'apertura è anche sul corriere adriatico adescato e poi molestato nella bottega si tratta di un ragazzino di 13 anni pensate il molestatore sarebbe un 62enne l'uomo aveva aiutato il ragazzo a rimettere la catena nella bici una volta soli gli avrebbe messo le mani addosso sequestrato il suo telefono era un pomeriggio di settembre in pieno centro storico a Fano un bambino che era un ragazzino che era in bicicletta vede la sua catena rompersi quindi scende cerca di aggiustarla un uomo gli si avvicina e dice che è disposto ad aiutarlo lo invita a seguirlo dentro uno stabile un locale e poi quando è dentro al riparo degli sguardi indiscreti li mette le mani addosso il 13enne però alla fine non sta zitto e denuncia tutto quello che gli è capitato e ora è pronto a ripercorrere quei momenti davanti al giudice ieri infatti il perito lo ha dichiarato capace di testimoniare e il prossimo 20 ottobre entrerà nell'auta per le audizioni protette con accanto il suo difensore l'avvocato Francesca Santorelli ebbene l'incontro addirittura tra questo ragazzo e il suo molestatore sarebbe stato immortalato dalle immagini delle telecamere della zona ma sul tavolo degli inquirenti è finito anche il telefonino del 62enne sequestrato e passato al setaccio a caccia di eventuali foto o altro che potrebbero essere determinanti e poi ovviamente sul giornale c'è tutto il racconto di questa vicenda che insomma fa pensare, fa riflettere sugli impulsi sessuali di uomini di tarda età vediamo anche come il Corriere Adriatico riporta la notizia è una notizia in apertura eccolo qua adesca un 13enne con la bici in panne un ceramista accusato di abusi sessuali indagato un 62enne con una bottega in centro la giovane vittima sarà ascoltata dal giudice e torniamo ora al resto del Carlino dove vediamo il resoconto di una conferenza stampa che il Partito Socialista ha convocato nella giornata di ieri qual è il tema in discussione? è la ristrutturazione e la riforma dell'ambito sociale Fano è capofila dell'ambito sociale numero 6 che comprende 9 comuni che cos'è l'ambito sociale? l'ambito sociale è un insieme di comuni che si occupa appunto di sociale e di assistenza soprattutto ai più bisognosi ai disabili, alle famiglie in povertà ed è veramente un compito essenziale quello perché poi questo fenomeno così del bisogno si estende sempre più sia dalla costa che nell'entroterra ebbene c'è una riforma una riforma però che non va bene a certi partiti soprattutto quelli dell'opposizione della minoranza ma non va bene nemmeno alle associazioni del terzo settore quelle che dovrebbero essere le principali interlocutrici appunto dell'ambito sociale ambito che dovrebbe essere trasformato secondo la riforma in azienda pubblica dei servizi ebbene il progetto elaborato e presentato dal assessore Alvel Ferdi comunità di Mitri Tinti viene contestato appunto anche dai socialisti e sono stati Tiziano Busca Bruno Rapa e Anna Frontalini li vediamo qui nella foto a appunto esporre le loro ragioni ragioni del dissenso innanzitutto contestano il fatto di un organo monocratico che dovrebbe sovraintendere e decidere questa nuova realtà sociale e quindi cosa fanno invitano i partiti a non votare in consiglio comunale questo progetto che è stato appunto redatto dalla maggioranza e in più chiedono un consiglio monografico per discutere appunto in modo ampio in modo completo la riforma del settore e dobbiamo dire poi che su questa vicenda ci sarà anche oggi una conferenza stampa di tutti i partiti di opposizione che seguiranno un po' quello che abbiamo detto fino adesso giriamo la pagina e vediamo la battuta del presidente della cooperativa alberghi consorziati di Fano, Torrette e Marotta Luciano, Cecchini alle accuse alle accuse diciamo così alle dichiarazioni che ha fatto l'assessore al turismo Etienne Lucarelli contro appunto la cooperativa un consorzio che secondo Lucarelli non risponderebbe più alle esigenze di interlocuzione da parte dell'amministrazione comunale in quanto non rappresenterebbe sempre secondo Lucarelli le esigenze degli albergatori in realtà così non è dice Luciano Cecchini che si è sentito molto ammareggiato e sorpreso delle parole dell'assessore ebbene noi siamo un interlocutore credibile ha detto per le imprese e fino a prova contraria lo siamo sempre stati anche nei confronti delle amministrazioni comunali anche di diverso colore che si sono succedute alla gestione della città siamo andati in questa situazione oltre le righe una situazione che dovrebbe essere ricomposta secondo Cecchini ma a questo punto l'assessore Lucarelli dovrebbe presentare le sue scuse nei confronti degli albergatori che ha contestato albergatori ovviamente che fanno parte dell'associazione alberghi consorziati ebbene è una vicenda questa che magari è andata veramente oltre le righe è probabile poi che ci sia una ricomposizione perché il modus diciamo di contrasto è stato quello dell'aumento della tassa di soggiorno che all'inizio era stato accettato dagli operatori poi quando è avvenuto insomma è avvenuto in tempi non certo propizi e allora lì è cascato l'asino come si dice e c'è stato appunto il disappunto le altre notizie andiamo a terre roveresche a terre roveresche in modo particolare a Montebello c'è un tesoro un tesoro che forse non molti conoscono ed è il Palazzo Ducale una delle residenze della Rovere dei Montefeltro e dei della Rovere che ha ospitato grandi personaggi per esempio la Vinia Feltria della Rovere che era la sorella dell'ultimo duca di Urbino Francesco Maria II ha vissuto lì in un paesino sulle alture che fronteggiano la Valle del Metauro e questo palazzo ora acquistato dall'amministrazione comunale dopo quattro secoli verrà ristrutturato ci sono anche delle belle decorazioni del Brandani all'interno di questo palazzo un palazzo tutto da scoprire da visitare sarà una meta turistica importante per questo paese ma sarà anche una location per organizzarvi tante manifestazioni in questo caso si organizza il festival di musica antica e lo evidenzia appunto il sindaco Sebastianelli e ora è patrimonio pubblico dice Sebastianelli perché nel settembre scorso il comune l'ha acquistato e dopo i primissimi lavori di sistemazione al piano nobile è pronto ad ospitare una tappa speciale del ventesimo festival di musica antica Musiche Ameni Loci che si terrà stasera alle ore 21 e 15 con ingresso libero Passiamo ad Urbino A Urbino l'amministrazione comunale collabora a restaurare a dare un maggior decoro ai loculi del cimitero in modo particolare per quelle famiglie che evidentemente non riuscirebbero a sostenere una spesa che non è affatto poco ingente la manutenzione spetterebbe ai parenti dei defunti ma l'amministrazione ha deciso di stanziare fondi per abbattere i costi sono 365 i loculi nei cimiteri di Urbino e Pieve di Cagna che sono in gravi condizioni di manutenzione ebbene questi allora verranno ristrutturati grazie anche ad un contributo del comune il lotto che viene restaurato è nel cimitero di San Bernardino si tratta del lotto 1983 Monte e Valle e due lotti 1985 Monte Valle per un totale di 260 loculi a Pieve di Cagna invece i loculi sono 105 divisi tra il lotto destra ingresso valle e il lotto sinistra ingresso monte quindi sono questi i loculi che verranno migliorati per quanto riguarda il lato funzionale ed estetico il rally dell'adriatico ad Urbino è una grande risorsa di carattere promozionale e di carattere turistico sono 89 gli equipaggi che sono già iscritti a questa gara hanno confermato la loro adesione all'evento che si terrà oggi e domani rimandato questo evento dopo la recente alluvione Urbino è un po' il quartiere generale a Fermignano ci sarà lo shake down e il parco assistenza mentre Cagli ospiterà le prove speciali quindi un'iniziativa che coinvolge benissimo tutto il territorio vediamo anche la pagina di Pesaro dove si parla di furti di biciclette furti si salvi chi può pochi denunciano e chi la ritrova deve dimostrare che è sua ebbene serve fare delle foto alle biciclette in modo che se poi si perdono oppure vengono rubate c'è un documento che aiuta a dimostrare che quella bici appartiene appunto a chi la ricerca la polizia locale non basta dirlo servono foto o altri particolari che eliminino le incertezze ad esempio il numero del telaio si può appunto trascrivere e mantenerlo nella propria abitazione e con il caldo l'abbiamo detto prima con il caldo va in fibrillazione anche il pronto soccorso perché poi si moltiplicano le persone che hanno bisogno di pronta assistenza anche il pronto soccorso bolle dice oggi il resto del calino siamo soltanto all'inizio ma il personale ce l'abbiamo parla così il primario il dottor Giancarlo Titoli che fa il punto sugli accessi probabilmente aumenteranno anche nei prossimi giorni ebbene arrivano in serie qualcuno accompagnato anche dai familiari altri per la maggior parte a bordo di ambulanze del 118 sono soprattutto gli anziani vittime del caldo del caldo africano che sta arrivando e che non mollerà la presa anche nei prossimi giorni anzi nei prossimi giorni sembra che la colonnina del termometro la colonnina del mercurio salga ancora di più quindi facciamo attenzione c'è anche un'altra pagina che riguarda questo argomento prigionieri dell'AFA acqua integratori per resistere in strada al sole che picchia soprattutto chi lavora sull'asfalto quindi chi fa la manutenzione delle strade chi lavora nell'edilizia occorre che si protegga perché veramente lavorare sotto il sole ad alte temperature fa male alla salute un volo di 5 metri un anziano precipita sul Genica il torrente che attraversa Pesaro è stato soccorso dai vigili del fuoco un 73enne ha perso l'equilibrio è caduto ha battuto violentemente la testa ed è stato soccorso con l'eli ambulanza si tratta di via postumo dove appunto è caduta questa persona per fortuna è stato notato è stato poi soccorso con il 118 i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con una operazione piuttosto spettacolare lo vediamo qui con questa alta gru che prende il ferito in una barella e lo solleva dal letto del torrente San Decenzio San Decenzio 104 posti gratis in più un parcheggio che vale 4 la nuova area di via Mirebelli servirà per il cimitero ma anche per il mercato e per la navetta per la sosta lunga e le sindacorici potenziamo così la strategia di mobilità integrata di Pesaro come a Baia Flaminia è veramente a Pesaro cercare un parcheggio non è affatto semplice bene ora passiamo al Corriere Adriatico abbiamo visto il titolo di apertura a fondo pagina abbiamo la conferenza stampa del partito socialista sulla riforma dell'ambito sociale e in apertura della seconda pagina abbiamo le rimostranze di Luciano Cecchini presidente del consorzio alberghi alberghi consorziati di Fano Torrette e Marotta a fondo pagina invece abbiamo l'annuncio da parte del consigliere regionale Luca Serfilippi di contributi nel settore della cultura alla città di Fano 150 mila euro 150 mila euro che vengono articolati in diverse manifestazioni ci saranno 40 mila euro per il carnevale 40 mila euro per la Fano di Cesare poi ci sono altri importi minori che vengono dati importi che però sembra che non vengono giudicati sufficienti da parte della capogruppo del movimento 5 stelle Marta Ruggeri che dice insomma siamo la terza città delle marche 150 mila euro sono un po' come le noccioline e purtroppo sono soldi inferiori come ammontare rispetto all'anno scorso quindi da una parte si evidenzia l'interesse della regione e dall'altra infatti si sminuisce e ora parliamo della Fano dei Cesari perché domani sarà la giornata conclusiva la giornata principale quella dove sul Pincio avverrà proprio la trasformazione della Fano odierna in Fanum fortuna con la grande sfilata a cui parteciperanno circa duemila persone e la corsa delle bighe al Pincio la sfida tra fazioni nell'arena gli opliti di Sparta sono gli spettacoli che avranno luogo oggi e poi tutti quelli che ci saranno domani quindi una grande manifestazione che sta avendo un grande successo in città dove ormai le persone in costume romano si moltiplicano e veramente girano tranquillamente tra le vie del centro storico a Fossombrone ci sono applausi e gradimento per il recupero della fontana si tratta di un manufatto del Settecento decorato da una statuetta di Anselmo Bucci a Marotta a Mavarotta si fanno investimenti nelle scuole pavimenti di linoleum riqualificazione all'esterno il sindaco Barbieri stanzia 290 mila euro per la primaria e la Materna Campus ebbene ancora importanti investimenti siamo in vacanza ed è il momento propizio appunto per fare dei lavori prima di chiudere voglio segnalarvi anche un articolo di Senigallia dove non si trovano guardie giurate e il servizio di vigilanza purtroppo resta al palo la Movida è sicura in due sole bici avrebbero dovuto garantire il pattugliamento però al momento è tutto fermo e speriamo che questo servizio venga ripristinato al più presto ed ora non mi rimane che chiudere i giornali questa volta non vi do un appuntamento a lunedì prossimo ma noi ci rivedremo la settimana successiva perché la prossima settimana condurrà la rassegna stampa di Fano TV Stefania Bonomi grazie per l'ascolto vi auguro un buon weekend e poi a risentirci grazie per l'ascolto